Il disavanzo di quasi 3 milioni di euro nel bilancio comunale di Yolanda di Savoia è al centro dell'accesa campagna elettorale che si sta tenendo in queste settimane. Il comune del Basso Ferrarese infatti, domenica 26 maggio, dovrà recarsi alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Due candidati, uno di questi è Gabriella della Cecca. Voltiamo pagina, sta chiedendo semplicemente che ci sia una chiarezza amministrativa. Il nostro paese è nel caos. Io sono veramente preoccupata. Io ho un figlio disabile che vive a Yolanda, devo assicurare a lui e alle altre persone in difficoltà, quindi agli ultimi, che ci sia un'amministrazione che veramente dice la verità. Scusate il gioco di parole. Noi stiamo vivendo una situazione in cui l'amministrazione uscente con pezzolato e trombin nega ai cittadini il diritto di avere accesso anche al Consiglio Comunale, perché arriviamo e troviamo le porte sbarrate. Per due volte non viene presentato il bilancio. Quindi noi siamo senza bilancio preventivo, senza bilancio consuntivo, mentre tutti gli altri paesi hanno assolutamente già assolto questo loro obbligo. Noi ci ritroviamo con la maggioranza uscente, che si dimentica di dire ai propri cittadini che ancora, nonostante la sentenza del 13 maggio 2019 della Corte dei Conti, ci sono due milioni quasi oltre di disavanzo, quindi di buco, nei conti del nostro Comune. Ma è soprattutto in merito al documento della Corte dei Conti sul riequilibrio finanziario pluriennale del Comune del Basso Ferrarese, reso pubblico lo scorso 13 maggio, che la candidata sindaca chiede un confronto pubblico con l'avversario. Per questioni elettorali hanno dimenticato di dirci l'aumento della Tari, l'aumento delle tariffe dell'acqua, l'aumento del limo, che ormai abbiamo a livelli altissimi, ma nessuno pensa agli agricoltori, che sono uno dei matori economici principali della nostra terra, e poi i tagli ai servizi alle persone, agli ultimi. Chi penserà? Vi faccio un esempio. Nella famosa sentenza della Corte dei Conti, che così portano avanti quelli del gruppo Trombin-Pezzolato, in una pagina si legge che a domanda del giudice competente, che dice, ma scusi sindaco, lei come farà a coprire le 13 convenzioni che deve stipulare per andare a coprire tutti i servizi che l'Unione non le potrà più dare perché lei è uscita? Con quanto coprirà questa cifra? La risposta del sindaco è 45 mila euro. Peccato che nella riga sotto, lo stesso giudice della Corte dei Conti, le contesti che quei 45 mila euro sono già stati usati per pagare dei debiti pregressi. Allora, proprio per tutto questo, inviterei Pezzolato e Trombin a analizzare questa famosa sentenza del 13 maggio 2019 della Corte dei Conti e ad analizzarla fino in fondo, parola per parola, ma davanti ai nostri cittadini. perché ritengo che sia un diritto del cittadino essere informato e un dovere dell'amministratore dare risposte e non fare semplici post triunfalistici che nulla dicono e nulla spiegano.